perché ho scelto di fare danza classica io vengo dal mondo dello sport sempre fatto sport e lavoro nel mondo dello sport cercavo qualcosa di diverso qualcosa di particolare e su facebook come capita ormai tutti i giorni sono imbattuta su Alina scuola di danza ho detto danza danza classica perché no poteva essere un modo per trovare qualcosa di diverso e lavorare comunque sul mio corpo che comunque già ero abituata a muovere ma non nell'abito della danza classica ho provato è stata un'esperienza bellissima ho ritrovato comunque alcune cose che avevo fatto anche da piccola perché ho fatto per tanti anni in ginnastica ritmica ho rimesso il body ho fatto un po fatica a rivedermi nello specchio con delle movenza cui non ero più abituata ma grazie ad Alina ho riacquistato molta sicurezza ho rivissuto momenti che in parte avevo già vissuto ne ho scoperti di nuovo ho conosciuto persone fantastiche e soprattutto grazie all'energia di Alina e alla sua professionalità ho scoperto veramente un mondo molto bello molto interessante è un'esperienza molto positiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti